Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo kit da via ferrata di Climbing Technology modello Plus G Compact. Nel particolare vedremo il suo imbrago, il suo dissipatore ed anche il suo casco. Adesso vediamo insieme i pregi e i difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo dall'imbrago di questo kit via ferrata, ovvero dall'imbrago modello Explorer. Stiamo parlando di un imbrago appositamente studiato per vie ferrate. Cosa intendo dire? Con ciò che è presente solamente l'anello di servizio a cui attaccare il dissipatore con una bocca di lupo, con un nodo a bocca di lupo, e non sono presenti due passanti in cui, faccio un esempio, durante l'alpinismo ci si fa il nodo A8. Quindi è un imbrago appositamente studiato per via ferrata. Questo è ottimo perché davvero va a ridurre tantissimo il rischio di fare un nodo sbagliato con il dissipatore. Però ne limita un pochino anche le funzioni perché oltre alla via ferrata potremmo farci poco o nulla. Un aspetto molto importante di questo imbrago è il suo peso. Parliamo infatti di un imbrago che pesa 400 grammi ed è unisex. Presenta nella parte anteriore tre cinghie che ci permettono di regolarlo innanzitutto molto facilmente perché davvero lo mettiamo su utina queste tre cinghie e siamo pronti a partire. E in più, come dicevo, è unisex. Quindi potremmo utilizzarlo dalla persona più magra alla persona anche più grossa. Non dovremo fare attenzione a comprare la taglia giusta, basta che lo regoliamo bene. Come dicevo, regolazioni molto facili e anche quando andiamo a fare una via ferrata, se dovessimo restare un pochino appesi, non abbiamo problemi che vadano ad aprirsi. Quindi davvero un imbrago strutturato molto bene. Tutta la parte poi di fascione, sia superiore che quello delle gambe, è fatta davvero in un ottimo materiale. Fa sudare poco, io l'ho utilizzato in una ferrata di settembre in cui c'era ancora caldo, vi assicuro ho sudato veramente, veramente poco. Dà comunque un ottimo sostegno perché se ci dovessimo appendere a peso morto nel momento in cui vogliamo riposarci un attimo, davvero crea un ottimo sostegno. In generale poi devo dire che comunque anche le feature che troviamo sono basilari ma comunque buone. Nel particolare abbiamo due anelli portamateriale, una a destra e una a sinistra in cui posso andare a appendere qualche moschettone o anche i moschettoni in sé del dissipatore che vediamo dopo. In generale comunque devo dire è davvero un ottimo imbrago. Diventa piccolino quando dobbiamo riporlo, ha delle cuciture fatte veramente bene. Andandole ad analizzare da vicino si vede come sono state curate nei minimi dettagli da Climbing Technology, però diciamo che non ci aspettavamo nulla di diverso perché Climbing Technology ha una grandissima storia di imbraghi sia da alpinismo o arrampicata e via ferrata, quindi sicuramente la qualità di questo imbrago non la si discute. Passiamo ora invece al dissipatore modello Top Shell Compact. Stiamo parlando di un dissipatore che pesa 570 grammi. La funzione principale che più mi è piaciuta è la sua grandezza perché è un dissipatore veramente piccolino, soprattutto la parte che poi va ad aprirsi in caso in cui dovessimo cadere proprio il dissipatore in sé, vi assicuro è piccolino, facilmente utilizzabile, quando lo utilizziamo non ci intralcia nei movimenti, nelle parti di scalata, durante la via ferrata eccetera, ed è anche molto semplice andare ad attaccarlo all'imbrago da via ferrata, quindi davvero ho delle dimensioni molto ridotte e anche il peso non esagerato. Per quanto riguarda i moschettoni, troviamo i moschettoni classici di quelli che bisogna andare a chiudere la parte posteriore per riuscire ad aprire il moschettone, quindi con la sicura giusta per fare le vie ferrate. Il moschettone è realizzato da ottimi materiali con anche delle finiture nel punto in cui va a strusciare maggiormente sul cavo ad alta resistenza, in modo tale che non si consumi troppo facilmente. In generale devo dire che il moschettone mi ha convinto. Per quanto riguarda le longe, queste non sono tanto lunghe, parliamo delle longe che sono lunghe sui 30 cm da richiuse e arrivano a 50 cm quando estremamente tirate. Devo dire però che sono fatte in materiale ottimo, non hanno nessun problema, ritornano molto velocemente quando andiamo a utilizzarle. E poi la cosa che naturalmente mi è piaciuta di più è il girello. Questo dissipatore ha il girello dato in dotazione, quindi ci eviterà che le longe vadano a intrecciarsi, quindi veramente ottimo. E in più, cosa che apprezzo sempre tantissimo, troviamo anche l'anello in cui andare a inserire un moschettone per andare a riposarci durante una via ferrata. Queste due feature normalmente le troviamo su dei dissipatori magari di fascia di prezzo molto più alta, qua Climate Technology ha deciso di inserire anche su questo modello, quindi veramente ottima. Come dicevo poi, la parte di dissipatore è vera e propria, è molto piccolo, molto leggero, non dà fastidio. Ha la classica cerniera da andare ad aprire nel momento in cui vogliamo andare a ispezionarlo per vedere se possiamo ancora utilizzarlo o la parte rossa, diciamo, di sicurezza è saltata via. Quindi devo dire un dissipatore sicuramente molto ben fatto, funzionale, facile da utilizzare, leggero, quindi davvero molto buono anche lui. Infine parliamo del casco che troviamo in dotazione, modello Climate Technology Galaxy. Ha un casco, possiamo dire, un po' a tutto fare, perché ci possiamo fare della via ferrata, del semplice alpinismo, anche un po' a dell'arrampicata. La cosa più interessante di questo casco è il suo peso, parliamo di 350 grammi, ed è un casco unisex. Avendo le regolazioni nella parte inferiore della chiusura e anche la regolazione con la rotellina dietro la nuca, possiamo andare a regolarlo davvero in base a qualsiasi grandezza del capo di ogni persona. Per quanto riguarda la ventilazione, diciamo che è nella media, non è sicuramente un casco super ventilato. Troviamo qualche piccola apertura nella parte superiore che comunque ci aiuta a non sudare eccessivamente, ma nelle giornate in cui farà veramente tanto tanto caldo, diciamo che un po' si suda. Una feature poi molto interessante è che abbiamo la possibilità di portare anche la torcia frontale, perché queste parti gialle che vediamo sul casco ci permettono di andare a inserire sotto la torcia e quindi poter progredire anche con la frontale. Per quanto riguarda poi la parte di imbottitura interna, devo dire, fatta molto bene, il casco, anche se lo utilizziamo per tante tante ore, non dà fastidio. Se dovessimo sudarci tanto, l'imbottitura interna si può tirare via e lavare facilmente, quindi devo dire che comunque ha un sacco di feature molto interessanti. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo kit di via ferrata, Clamic Technology Plus G Compact. Iniziando dal prezzo, viene venduto online sui 200-210€. Il prezzo secondo me è veramente buono per il tipo di kit che andiamo ad acquistare, perché è un kit appositamente studiato per via ferrata, in particolare, come abbiamo visto, l'imbrago proprio pensato apposta per la via ferrata. Troviamo un dissipatore che ha delle funzioni anche da top di gamma, come dicevo, sia il girello che l'anello per riposarsi, quindi sicuramente delle funzioni di un dissipatore che tendenzialmente costerebbe anche di più. Forse il casco si potrebbe fare un qualcosina di più, però comunque ci sta alla fine un casco abbastanza a tutto fare, unisex per quanto riguarda le taglie. Quindi devo dire sì, che ve lo consiglio secondo me 200€, un ottimo prezzo per un kit ferrata, che alla fine possiamo dire che come posizionamento del mercato è a metà. Non è un kit ferrata troppo costoso, nemmeno troppo cheap, che magari ci potrebbe dare qualche problema. Quindi detto ciò ragazzi, la speranza sia stato esauramente esotivo anche per questa recensione, e vi ringrazio per l'ho guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!